Perché l'energia? Perché il futuro? La diffusione delle nuove tecnologie, le nuove normative europee e la progressiva sensibilizzazione su temi quali risparmio energetico ed edilizia sostenibile hanno fatto sì che le grandi aziende ed il settore privato ponessero sempre più attenzione al mondo dell'energia. Saranno sempre più richieste nuove figure professionali altamente specializzate e competenti. Una risposta a questa esigenza sono gli istituti tecnici superiori, un'alternativa post-diploma all'università, che hanno lo scopo di formare professionisti su aree tecnologiche strategiche ed innovative. Lo studente acquisisce il titolo, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, di tecnico superiore, una figura richiesta dalle stesse aziende che fanno parte della fondazione organizzatrice. Sono realtà leader a livello internazionale che gestiscono direttamente il corso in accordo con l'università, gli istituti tecnici e le amministrazioni locali. Più dell'85% dei diplomati ITS ha già trovato un posto di lavoro in aziende del settore energetico, in ambito pubblico, privato o come libero professionista. I corsi ITS, attivi nelle province di Cremona e Brescia, formano tecnici per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile e tecnici superiori per la gestione e la verifica di impianti energetici. I corsi sono biennali per un totale di 2000 ore, 600 delle quali sono stage nelle aziende della fondazione ed in altre aziende del territorio. La quota di iscrizione viene rimborsata alla fine del percorso e il materiale didattico viene fornito gratuitamente. Anche le spese di vitto e alloggio potranno essere parzialmente rimborsate. Il tecnico specializzato, esperto di impatto ambientale, fonti rinnovabili e certificazione energetica non dimentica però l'aspetto della comunicazione, il marketing e la lingua inglese. Energia, clima, ambiente, sostenibilità. Entra nella Green Economy. Per maggiori informazioni visita il sito itsefficienzaenergetica.it It's a good idea, it's a good job.